La comunità di Santa Croce di Magliano ha intitolato lo stadio Vincenzo Cosco, una decisione unanime e fortemente sentita per ricordare il simbolo di un paese, colui che ha messo a disposizione il suo talento per il rilancio di un territorio. Centinaia di persone sugli spalti, amici, conoscenti, fan e istituzioni, la voglia di esserci per dedicare un pensiero ad una persona che questo gesto lo meritava. Il commento dell'assessore allo sport di Santa Croce di Magliano, Nicolangelo Licursi, nonché amico di vecchia data di Cosco. Allora oggi per la nostra comunità, per tutta Santa Croce ma credo non solo per la nostra comunità ma per tutto il Molise e anche oltre i nostri confini regionali è una giornata importantissima perché ricordiamo un grande uomo, una grande persona prima che un grande allenatore quindi quello che stiamo facendo oggi è ben poca cosa rispetto a quello che Vincenzo Cosco ha lasciato nei nostri ricordi e tutte le persone che lui ha conosciuto e che lo hanno conosciuto. Quindi intitolare il campo, lo stadio comunale a Vincenzo Cosco è una minima cosa che possiamo fare come comunità perché questo è un gesto di tutta la nostra comunità verso una persona che ha dato tanto a Santa Croce, una persona che in ogni parte che è andato ad allenare non ha mai tralasciato il fatto o messo da parte le sue origini. Quindi per noi è fondamentale questo, ricordarlo in questo giorno, creare appositamente un memorial come questo, il primo memorial ma ogni anno mi impegnerò direttamente ma con una squadra di amici ad organizzare la seconda edizione, così la terza e così via. Quindi sarà un appuntamento annuale che noi dedicheremo alla memoria di Vincenzo Cosco e quindi penso che è una giornata molto molto bella, particolare, c'è gente purtroppo non ci ha accompagnato tanto il tempo però comunque stiamo procedendo bene e dopo la finale che vede impegnate le prime due squadre di questo primo memorial la Polisportiva San Pietro e Paolo e l'Andria procederemo all'intitolazione del campo fra qualche minuto e quindi sarà un momento di gioia per tutti.